Oggi la conosciamo per i suoi video in cui balla su Instagram con i coltelli in mano, ma per i millennial lei è stata un'istituzione. La principessa del pop ha avuto alti e bassi nella sua vita, ma grazie ai suoi fan Britney Spears è riuscita a liberarsi da una tutela che le aveva tolto tutti i diritti fondamentali, chiavizzata e costretta a lavorare per 13 lunghi anni. Oggi ha pubblicato il suo libro The Woman in Me, in cui finalmente per la prima volta ci dà una prospettiva diversa da quella dei giornali su tutta la sua vita. Oggi parliamo del video di Britney. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma ero in Italia, non potevo registrare, quindi ecco perché sono arrivata così in ritardo. Seconda cosa mi scuso sia per la voce che per il mio aspetto, perché sono tornata dall'Italia ieri notte e poi ho passato tutta la notte sveglia perché c'è un sacco di vento, come so che c'è anche da voi. Perché siamo oggi a venerdì, per voi sarà martedì, il vento non mi ha fatto chiudere occhio, quindi sono sveglia da circa 48 ore, perciò se tra un po' mi vedete ballare come fa Britney con i suoi coltelli nei video Instagram, non sono impazzita, non vi preoccupate, solo perché non dormo da parecchio, una certa età si sente. Bene, ce l'abbiamo fatta, mi sono letta il libro, adesso ne parliamo chiaramente e non ve lo racconterò tutto, perché voglio che lo compriate, perché dovete leggerlo voi, per capire le sofferenze di questa povera donna e per incavolarvi come ci siamo incavolati tutti, perché ha dato dei dettagli anche sulla sua vita pre-conservatorship, spiegando varie cose quindi che non sono piacevoli. Le cose principali chiaramente le vediamo in questo video, facciamo un discorso, però vi consiglio di acquistarle. E infatti ringrazio la Longanesi per avermi inviato il regalo, questo libro, grazie mille, vi lascio sotto il link in descrizione se volete acquistarlo. Dunque, prime considerazioni sul libro di Britney. Allora, a livello di racconto è un po' strano, ve lo dico, nel senso che il libro doveva essere molto più grande e poi è stato tagliato e i tagli si vedono, perché si passa da un argomento a un altro, un po' così, un po' in maniera fantasiosa, un po' come i balletti di Britney. Quindi effettivamente certe volte perdi un attimo la cognizione del tempo, però per il resto è un libro carico di tanta rabbia, come è giusto che sia. È scritto anche, si vede la vera Britney, perché in certi punti è un po' delirante, passa da un punto all'altro, quindi si vede Britney in questo libro, mettiamola così. Ora, prima di cominciare, salutiamo il nostro sponsor del video di oggi, e cioè Pampling! Che non vi faccio leggere la frase su questa maglietta, perché è una cosa un po' con garotta in spagnolo, ma a me piace, mi ha fatto ridere e l'ho comprata. Non vediamo Pampling da un po', ma rimane sempre nei nostri cuori e soprattutto nei nostri armadi, perché Pampling è un sito che vende magliette, costumi, ma anche quaderni, borracce, tanta tantissima roba, sempre in sconto a dei prezzi meravigliosi, con dei disegni ancor più meravigliosi. Quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione, e con il codice sconto L'Hora del Tè riceverete un paio di calze o calzini d'omaggio sul vostro ordine. Bene, ora basta perderci in chiacchiere e andiamo. Allora, partendo dai primi capitoli, nei primi capitoli Britney racconta la storia della sua famiglia, perché è importante la storia della sua famiglia, perché risale anche ai genitori dei suoi genitori, quindi ai suoi nonni, e ti fa capire, ti dà un quadro, diciamo, un po' più dettagliato e anche un po' più psicologicamente collegato, si può dire. Scusate, è sempre mancanza di sonno, oggi sarà difficile. Comunque dà un quadro della sua, del perché la sua famiglia era così, è stata, e lo è ancora, è così disfunzionale. Partiamo dalla storia dei nonni paterni, molto brevemente, poi chiaramente i dettagli, vi ripeto, leggeteveli nel libro. Quindi, dicevo, partiamo dalla famiglia del padre, poi vediamo la famiglia della madre, che cosa ci racconta Britney in questo libro. Partiamo dal padre, come sappiamo il padre si chiama Jamie Spears, si è il padre di Britney Spears, ma il nonno di Britney, di Britney, quindi il padre di Jamie Spears, si chiamava, si chiamava, June. In sostanza, questo June era un uomo, molto abusante, soprattutto nei confronti della nonna di Britney, Emma, che fu, questa Emma fu appunto la sua prima moglie, e fu trattata malissimo. Poi il nonno ebbe altre, altre mogli, che trattò ugualmente male, ed era, probabilmente sì, anche molto alcolizzato, quest'uomo, era un uomo violento, e i due hanno concepito Jamie Spears, quando si sono sposati, poi qualche tempo dopo, la signora Emma, questa povera donna, perché vi dico povera, adesso ve lo dico, è rimasta incinta di nuovo, ma dopo tre giorni dal parto, purtroppo il bambino muore, e il nonno June decide di internarla in un manicomio, so che non si dice manicomio, però Britney Spears lo chiama proprio manicomio, quindi io sto usando le sue testuali parole, quindi insomma capite che non era proprio un uomo fantastico, e la stessa cosa ha fatto, pensate, anche con la seconda moglie, quindi, proprio un gioiello di signore, e lui soprattutto voleva che Jamie Spears, quindi il padre di Britney, diventasse un atleta di fama mondiale, quindi a livello agonistico, perciò gli faceva fare due, tre sport, e lo incoraggiava in stile generale, militare, della seconda guerra mondiale, proprio abbacchettate, abbastonate, quindi poi questo comportamento di June, verrà ripreso da Jamie, per il fratello di Britney, Brian, quindi purtroppo, il ciclo diciamo continua, mentre dalla parte della madre, sua nonna Lilian, proveniva da una facoltà, quindi la mamma della mamma, la mamma di Britney si chiama Lynn, quindi praticamente questa donna, era una donna inglese, una donna altolocata, di buona famiglia, che frequentava la società, l'alta società inglese, tutto quanto che si innamora, del nonno di Britney, cioè Barney, decide di seguirlo in America, negli Stati Uniti, per vivere il sogno americano, quindi lei molla la sua famiglia, dice ciao ci rivediamo tra un po', io mi vado a fare il sogno americano, questo sogno americano però, non era come lo aveva immaginato, perché questo Barney, l'ha portata in una campagna sperduta, della Louisiana, in mezzo alle mucche, a fare insomma, avevano questa fattoria, e lei chiaramente è stata, è rimasta un po' scioccata, perché passare dalla Movida, dall'alta società inglese, a una casetta di campagna, in Louisiana, per quanto possa piacere a molti, me compresa, capite che comunque fu un trauma, e quando lei disse a suo marito, Barney perché non mi riporti a Londra, a rivedere la mia famiglia, la risposta era sempre no, erano altri tempi, erano altre cose, erano altre situazioni terrificanti, infatti quando ho saputo, che la nonna di Britney era inglese, mi è rivenuto in mente, quando lei nel 2007, ha avuto quel periodo di delirio, che ai paparazzi lei parlava in inglese, parlava con l'accento inglese, quindi forse magari si ricordava di sua nonna, perché parlava con questo accento, e faceva anche un po' i movimenti d'aristocratica, quindi forse magari era una sorta di tributo, nella sua testa a sua nonna, quindi passiamo ai genitori, si passa ai genitori, i genitori Jamie e Lynn si conoscono, si innamorano, si sposano, ed ebbero il primo figlio Brian, appena avuto il primo figlio, Jamie iniziò subito a bere, quindi iniziò a diventare alcolizzato, la situazione della famiglia, chiaramente non era rosea, né a livello proprio familiare, insomma del benessere familiare, ma ne anche da quello economico, perché facevano fatica a sbarcare il lunario, quindi la situazione era molto tesa, in più, come dicevo prima, Jamie voleva, stava attuando lo stesso comportamento di suo padre, però con suo figlio, per il fatto che spingesse Brian a fare sport, perché voleva che diventasse un atleta di fama mondiale, quindi insomma, era una famiglia abbastanza disfunzionale, poi però il padre Jamie, apre una palestra, e un altro paio di attività, e le cose vanno bene, quindi in sostanza la famiglia, questa è effettivamente un po' tipico dell'America, il fatto che un giorno, quasi fai le nemosi, nel giorno dopo, se hai un'idea decente, riesci a farti i soldi, questa è un po' la cosa, il cosiddetto sogno americano, no? Beh, Jamie ci riesce, e infatti la famiglia diventa la più ricca del quartiere, avevano questa bella villa con la piscina, la madre lì, ne apre un asilo, perché lei aveva studiato proprio, non so se scienze della formazione, comunque insomma, era preparata nel campo, e apre un asilo, e loro avevano questa tendenza, diciamo, ad organizzare delle feste a casa loro, dove invitavano tutti i vicini, quasi tutte le sere praticamente, ed erano degli eventi ricorrenti, nel vicinato, dove girava parecchia alcol e parecchia droga, come racconta Britney, e Britney è nata proprio in questo contesto, cioè è nata in questo contesto di benessere familiare, in cui Jamie aveva smesso di bere, in cui la situazione economica era ottima, e quindi insomma sembrava quella da fuori una famiglia felice. Quindi saltando un po' tutto il racconto della famiglia, eccetera, eccetera, quando ricomincia poi la famiglia disfunzionale, ricomincia perché Brian, il fratello di Britney, stava giocando con dei quad, e con il suo quad si è rimbaltato, si è rotto tutte le ossa, ma ha rischiato di perderci la vita, quindi sua madre ha iniziato ad essere molto preoccupata, cioè ha iniziato proprio a tenerlo in una bolla di vetro, praticamente, per cercare appunto di proteggerlo, inizia da diventare ossessiva nei suoi confronti, e Britney racconta che lei ci soffriva di questa cosa, perché si era resa conto che in famiglia non veniva particolarmente considerata, tant'è che il suo gioco preferito era proprio quello di nascondersi in dei punti introvabili, perché a lei piaceva che la sua famiglia si preoccupasse e l'andasse a cercare, per darci proprio, diciamoli, da dove è cominciato tutto, ecco mettiamola così. Dopo l'incidente di Brian, il padre ricomincia a bere, ricomincia a bere, comincia a spendere tutti i soldi della famiglia che guadagnava con le sue attività in alcol, la madre giustamente gli strillava contro, diceva sei ancora ubriaco, vergognati eccetera, quindi praticamente Britney e Brian passavano le serate in cameretta loro insieme, infatti lei racconta che sono molto legati, passavano le serate insieme proprio per cercare di sopportare questa situazione frustrante in casa. Comunque dopo questa prospettiva sulla famiglia disfunzionale di Britney, nel libro si passa a come Britney ha iniziato tutto. Dunque Britney ha provato a fare il provino per il Mickey Mouse Club, però la prima volta non fu presa, lei all'epoca aveva otto anni, ma l'età che cercavano, diciamo minima, per i concorrenti, per i partecipanti di Mickey Mouse Club, era 10 anni, quindi le hanno detto guarda ci sei piaciuta particolarmente, ma sei troppo piccola, ti diamo il numero di un agente di New York, contatta lei, mettiti in contatto con lei perché hai talento e magari ripresentati a noi tra un paio d'anni. Quindi Britney e la madre, perché soprattutto la madre, che come ha visto che Britney sapeva cantare e ballare, subito è andata vai altri soldi, ti butto nel mondo dello spettacolo, contattano questa gente a New York. Infatti tutto è partito perché Britney nel libro dice a me piace, mi piaceva già cantare e ballare, io già sapevo che volevo fare quello nella vita, infatti lei si esibiva per esempio anche a queste feste che organizzavano i genitori, alle feste che organizzava il fratello con gli amici, il ballo era un modo per lei anche di attirare l'attenzione, di stare al centro dell'attenzione e di essere considerata, quindi dopo aver vinto un concorso locale, la mamma la porta a fare il provino per Mickey Mouse Club. Quindi tornando al zucco della questione, questa gente le trova un lavoro come sostituta in uno spettacolo di Broadway, Britney era piccola, aveva 8-9 anni, però a Britney non piacque molto la cosa perché raccontare il libro erano ore di lavoro estenuanti per una ragazzina, poi lei non si è neanche mai esibita in questo spettacolo, che davano a Broadway un tot di volte alla settimana perché chiaramente lei sostituiva la protagonista, ma se la protagonista stava bene e lei non andava, infatti racconta che magari stava anche fino alle 2-3 di notte in teatro, seduta così aspettando e sperando di entrare o meno. Quindi lei passa così qualche settimana, si rende conto che la situazione è pesante per lei, che era solo una bambina, e dice la mamma, mamma io smetto, torniamoci nel Louisiana che mi manca casa. Era anche il periodo di Natale, quindi insomma comunque era una ragazzina, perciò la madre diceva bene, perché loro nel frattempo avevano preso un appartamentino un buco a New York per rimanere lì, e quindi diceva bene, torniamo in Louisiana e non fa niente. A dieci anni riprova con il Mickey Mouse Club, quindi all'età giusta, infatti lei viene presa insieme a nomi, come sappiamo, come Cristina Aguilera, Ryan Gosling e anche Justin Timberlake. Il Mickey Mouse Club dura più o meno un annetto e mezzo, poi lei si rende conto che le manca casa, si rende conto che le manca la Louisiana, e si rende conto che a differenza di ad esempio una Cristina Aguilera che era andata a Los Angeles e Ryan Gosling che aveva provato a New York, eccetera eccetera, lei voleva solo tornare a casa, quindi mette un po' in pausa questa cosa. Un pezzo che mi sarebbe piaciuto approfondire, che Britney nomina purtroppo di sfuggita, perché chiaramente le cose da raccontare sono tante, quindi passa da una notizia all'altra, è il fatto che lei dice, la cosa che l'ha fatta sentire a disagio, dopo il Mickey Mouse Club, perché dopo il Mickey Mouse ha fatto giusto un altro concorso e poi ha deciso di smettere, è che vedeva che i bambini venivano trattati in modo particolare nel mondo dello spettacolo, non in senso positivo, soprattutto le bambine, infatti lei racconta di questa intervista, in cui, insomma lei aveva dieci anni, le chiedono ce l'ha il fidanzatino, cioè manco il fidanzatino ce l'ha il fidanzato, e lei al presentatore di 60 anni risponde no, perché i maschi sono tutti cattivi, e il presentatore le fa, ma no non è vero che i maschi sono tutti cattivi, prendi me, che cosa ne pensi di me, che cosa vorresti dire di me mia cara, insomma diceva che le bambine in particolare venivano trattate quasi come delle adulte, beh l'abbiamo visto in mille video, non ci stupisce, per quello avrei voluto che approfondisse un po' la questione, però Britti non ci ha fatto questo regalo, però ha lasciato intendere che l'ambiente non le piaceva molto, quindi decide di tornare in Louisiana, perciò lei praticamente fa un'infanzia normale, un'adolescenza normale, che appunto è raccontata poi nei dettagli nel libro, in cui racconta anche un altro po' di rapporto disfunzionale con la madre, in cui racconta che la madre le faceva guidare l'auto a 13 anni, perché secondo lei era abbastanza grande, e la portava a far serata e a versi dai chiri a 12 anni, quindi se volete approfondire appunto, anzi adesso il libro lo metto qui, se volete approfondire è nel libro iscritto tutto, e arriviamo direttamente al punto in cui lei si rende... scusate, vuoi venire qua? Forza, bravo. ...in cui lei si rende conto che Justin Timberlake era entrato negli NSYNC, Ryan Gosling stava facendo anche altro, che tutti i suoi amici del club, del Mickey Mouse Club, erano andati avanti con le loro carriere, avevano continuato ad investire, eccetera, eccetera, le è tornata la voglia di rimettersi in gioco, di riprovare, di ributtarsi nel settore, vedendo appunto che anche i suoi amici ce la stavano facendo. Quindi chiamano quella gente di New York, che comunque sono rimasti in contatto, diciamo, con Britney, e le dice guarda sono pronta a buttarmi, voglio fare la cantante, e questa gente le dice va bene, perfetto, ho i contatti con la Give Records, sono interessati a te, devi volare in Svezia per registrare il tuo disco. Quindi lei accetta e decide di ributtarsi nel mondo dello spettacolo. Una cosa simpatica, un aneddoto simpatico su Baby One More Time, che è stata la prima canzone che ha fatto uscire, è che lei per dare un tocco, anche un po' grattato alla sua voce, voleva arrivare al momento della registrazione stanca, tipo come lo sono io oggi, non ha dormito tutta la notte, ha detto non dormo, così domani ho la voce stanca, ho anche un po' di grattato, un po' di rauco, che gli dà quel tocco in più a questa canzone, quindi è stato un aneddoto simpatico, perché lei ha anche questa sua creatività, che voleva insomma esprimere in tutti gli aspetti del suo lavoro, infatti per esempio anche il video di Baby One More Time, lo ha pensato tutto lei. Cioè all'inizio le avevano detto, Devi sarai una tipa nello spazio, e canterai questa canzone, e lei disse, no guarda, siccome il mio target di riferimento saranno gli adolescenti, che ne dici, se lo facciamo dentro una scuola, le ha coreografie le ha fatte lei, quindi insomma, era un artista a 360 gradi. Quindi la sua prima canzone, Baby One More Time, appunto uscì nel 1998, il suo disco vendete più di 10 milioni di copie, quindi in pochi mesi, Britney si converte nella principessa del pop, va sulla cresta dell'onda, insomma diventa super famosa. Che succede però, che come abbiamo anche già visto, parlato diciamo nel video, lei ci sta confermando quello che avevamo già intuito, è il fatto che la fama non è semplice da gestire, che all'epoca c'era un comportamento molto diverso tra uomini e donne, perché lei fa infatti il paragone con Justin Timberlake, dice a Justin, veniva chiesto appunto della sua carriera, gli veniva detto quanto sei bravo, eccetera, eccetera, a me chiedevano se le mie tette erano naturali, oppure no, scusate, ma c'era questo che le chiedevano nelle interviste. Inoltre, ha del racconta anche di quando ha fatto il servizio fotografico per Rolling Stone, in cui lei sostanzialmente è mezza nuda, con un teletubbies in mano, questa cosa fece indignare molto sia la società, sia i giornali che appunto la ditavano, come una persona che voleva traviare i poveri adolescenti, qualcuno pensi ai bambini, e quindi insomma veniva tacciata di, come se fosse un cattivo esempio, ecco. Quindi lei inizia a capire che era sotto controllo, cioè che la stampa non la lasciava in pace, che ogni cosa che faceva veniva criticata, che non bastava essere bravi in campo artistico, ma contava tutto il contorno, infatti secondo lei, lei veniva più considerata per il suo aspetto fisico che per il suo talento. Anche quando andava a fare le interviste, tutto si concentrava sul suo aspetto fisico, che comunque lei era una bella ragazza, e spesso i presentatori insinuavano che magari lei era famosa perché era bella e non perché era talentuosa, ecco. E nel frattempo, anche magari il fatto che lei ballasse in maniera provocante, che poi provocante, ballo, e nei suoi video, ogni volta la stampa le diceva, ecco, questo è un esempio per gli adolescenti, poi rovina gli adolescenti perché pensano di poter essere come Britney, così, poi in desablie, eccetera, eccetera, quindi lei ha cominciato un po' a sentire già da subito sostanzialmente il peso delle critiche. Inoltre, da un lato appunto c'era la casa discografica che chiaramente la sessualizzava e dall'altro c'era la stampa che la demonizzava per questa sessualizzazione. E allo stesso tempo racconta che si è cominciata un po' a... ha cominciato a provare un po' di inquietudine quando ai suoi concerti, ai suoi eventi andavano anche uomini adulti, perché comunque lei aveva 16 anni all'epoca, andavano anche uomini abbastanza adulti non ad accompagnare i figli, ma perché volevano vedere lei, quindi si era resa conto effettivamente che tutto girava intorno al suo aspetto fisico, aveva cominciato a sentire un po' la pressione di questa cosa. Comunque, saltando tutta la parte, insomma, dei paparazzi, eccetera, che ne abbiamo parlato in questo video che vi invito a rivedere, perché molte cose le avevamo azzeccate, anche l'ordine delle spiegazioni, insomma, tutto il fatto dei paparazzi, tutto ciò che l'aveva portata a poi impazzire nel 2007, praticamente nel libro è riconfermato, e passiamo direttamente alla parte in cui conosce Justin Timberlake, cioè l'ho conosciuto al Mickey Mouse Club, però quando ha iniziato la frequentazione, perché questa è stata una cosa che è stata spoilerata, e a me, raga, gli spoiler mi fanno incavolare nera, perché esce il libro di Britney dopo tre giorni, perché mi devi spoilerare le notizie importanti prima? Cioè, aspetta che compro il libro, voglio leggerlo io! Oh, parliamo della notizia che ha girato, cioè il fatto che appunto Britney Spears e Justin Timberlake si conoscevano già, però hanno iniziato poi a frequentarsi, a vedersi spesso, per il fatto che entrambi erano famosi, e si innamorano, e si fidanzano, si mettono insieme. Sorvolando sui gossipini del fatto che Justin Timberlake l'ha tradita con qualunque cosa, respirasse, e non si sforzava neanche tanto di nasconderlo, un po' perché i paparazzi comunque lo seguivano e lo fotografavano sempre con ragazze diverse, in parte perché anche Justin Timberlake non si sforzava di nasconderlo, perché magari, non so, era col suo corpo di ballo e diceva la vedi quella? Quella me la sono fatta, capito? E poi lo andavano a riferire a Britney, e insomma, non è stata una relazione perfetta come ce l'avevano venduta in quell'epoca, all'inizio degli anni 2000, e però la notizia principale, diciamo quella che ha sconvolto un po' tutti, è stata che Britney Spears era rimasta incinta di Justin Timberlake. Era rimasta incinta lei, che da sempre, quindi è una conferma del fatto che qualunque persona con cui aveva dei rapporti già si vedeva con la casa, la famiglia, i figli, il fatto di invecchiare insieme, il matrimonio, eccetera, eccetera, anche con Justin era la stessa cosa. Infatti lei racconta che, benché il figlio non fosse, diciamo, stato programmato, lei era super contenta perché si vedeva appunto col sposata con lui, l'uomo della sua vita, eccetera, eccetera, però Justin Timberlake che aveva 18-19 anni all'epoca non se ne era sentita di prendere l'impegno e le ha detto guarda, secondo me è meglio se interrompi la gravidanza, quindi lei racconta che insomma è stato Justin proprio a spingerla, a convincerla, a interrompere la gravidanza e la cosa brutta, oltre a tutto questo, è che lei non poteva entrare dentro una clinica perché era seguita costantemente dai paparazzi, quindi era un problema perché lei diceva se io, se mi avessero paparazzato entrare in una clinica era palese quello che avrei dovuto fare, insomma, cioè l'interruzione della gravidanza e quindi sarei stata etichettata come l'assassina, la vergogna, eccetera, eccetera, quindi la gente di Justin le porta a casa una pasticca per interrompere la gravidanza e lei in quel momento quando l'ha presa poi ha avuto anche delle convulsioni si è sentita male, insomma, è stato un momento veramente triste della sua vita. Nonostante il fatto che Justin Timberlake le mettesse le corna a destra e a manca che le avesse fatto insomma fare una cosa così pesante, ecco, mettiamola così, comunque Brittany era innamoratissima di lui perché Brittany è la regina delle ingenue, cioè questo c'è da dire ma se lo dice anche da sola nel libro, è la regina delle ingenue e quindi lei non lo ha lasciato, si sono continuati a frequentare per un po', alla fine, grazie al cielo, Justin ha detto senti, forse non è il caso che andiamo avanti e l'ha mollata per messaggio. Quello che racconta Brittany è che non le ha fatto male tutto quanto ma la cosa che diciamo l'ha destabilizzata parecchio della rottura con Justin è stato il fatto di dover rompere anche con la sua famiglia perché lei racconta che la famiglia di Justin Timberlake era composta da persone meravigliose che l'hanno trattata per la prima volta nella sua vita come un membro della famiglia quindi come se fosse una figlia acquisita cosa che non faceva invece la sua di famiglia perché la sua famiglia sostanzialmente non l'è mai stata vicino anche prima della conservatorship vi parlo se non per andare a bussare e chiedere e battere casse e dire Brittany mi paghi questo mi paghi questo perché il padre è assente in generale la madre era passata dall'ossessione per suo figlio Brian all'ossessione per Jamie Lynn Spears la figlia più piccola quindi quella dopo Brittany la sorella che era diventata praticamente la figlia preferita cioè la madre viveva solo per lei quindi Brittany a malapena racconta che riceveva chiamate dai suoi genitori mentre lavorava e che la chiamavano solo quando gli serviva qualcosa andando avanti un po' nei capitoli una cosa che mi ha colpito particolarmente è stata la sua amicizia con Madonna perché? perché Madonna lei racconta che era una persona fantastica che insomma le ha cercato anche di dare qualche consiglio a livello di carriera eccetera e lei ammirava molto Madonna perché Madonna era una donna che sostanzialmente faceva il porco del comodo suo sul palco nel senso di se si voleva spogliare si spogliava se voleva andare tutta coperta bendata andava e la stampa non diceva nulla cioè Madonna non riceveva critiche e quindi lei ha detto ma come fa questa a fare quello che vuole mentre se io sbaglio una virgola la stampa mi uccide e quindi lei ha preso molto molto ad esempio Madonna infatti se ci fate caso la sua immagine e le immagini Brittany cambia da prima e dopo l'uscita di Toxic la canzone perché prima era stata etichettata e venduta dalla casa discografica come la sorellina d'America come la quasi la Vergine Maria la Santarellina eccetera eccetera la bambina carina eccetera e veniva anche tartassata dai giornali per questo perché la casa discografica la vendeva come la ragazzina innocente poi nei video comunque ballava si spogliava eccetera eccetera il post toxic toxic perché il post toxic appunto il video è stato quello che ha cambiato totalmente la sua immagine cioè lei ha detto voglio prendere in mano il controllo della mia storia quindi non voglio più essere etichettata come la ragazzina Santarellina ma io ormai sono una donna voglio essere una donna essendo una donna faccio quello che mi pare quindi toxic è stato il colpo di grazia che ha cambiato l'immagine di Brittany da prima a dopo a quella che poi abbiamo conosciuto a comunque la ragazza sexy con carattere che usciva nei video ed è stata una sua scelta ispirata proprio da Madonna e questa cosa mi è piaciuta perché lei dice appunto cambiando la mia immagine finalmente avrò il controllo della mia storia purtroppo e che poi è la stessa cosa che ha fatto Miley Cyrus se ci pensate ne abbiamo parlato in un video purtroppo non è stato così non è stato così perché la stampa l'ha comunque continuata a massacrare addirittura c'erano le interviste in cui intervistavano le mamme di delle ragazzine dicendo questa ragazza ha rovinato mia figlia porterà mia figlia verso la perdizione insomma c'era un'isteria intorno a Britney Spears e questa cosa chiaramente l'aveva distrutta psicologicamente non aveva fatto una pausa da tutta la vicenda di Justin Timberlake non perché la casa discografica non voleva farle fare pause e quindi anche psicologicamente non si era potuta rilassare un attimo prendere fiato rimettersi e ricominciare a lavorare per stare sotto i riflettori anzi quando ci fu tutta la rottura di Justin lei chiamò la casa discografica e disse mi fate stare qualche tempo a casa in Louisiana che voglio un attimo riprendermi sto male non riesco e la casa discografica ha detto assolutamente no infatti lei racconta che se lei si è fatta quest'opinione che la casa discografica non la faceva riposare perché aveva paura che lei mollasse siccome lei faceva fare big money alla casa discografica praticamente non faceva neanche in tempo a tornare due tre giorni a casa dai genitori che subito aveva di nuovo concerti tour interviste registrazioni di video eccetera quindi Britney inizia a sviluppare una sorta di ansia sociale praticamente lei sapeva che ogni cosa che faceva ogni cosa che diceva la stampa poi l'avrebbe ripresa rigirata e attaccata quindi a un certo punto dice guarda a me non interessa più perché lei prima cercava di piacere a tutti voleva piacere a tutti voleva dimostrare che lei non stava lì solo perché era una ragazza carina ma perché aveva del talento a un certo punto sviluppa quest'ansia sociale di stare agli eventi di avere la paura di fare qualcosa di sbagliato a un certo punto dice senti era capodanno aveva qualche giorno lì dice io me ne vado a Las Vegas con i miei amici va a Las Vegas con gli amici e insomma bevono quello che si fa a Las Vegas che faremo tutti e si sposa per scherzo anche se poi a Las Vegas è valido però erano ubriachi classica storia americana si sposa con il suo amico d'infanzia quindi insomma quella sera hanno avuto un intrallazzo sono andati dentro una cappella e si sono sposati il giorno dopo lei insomma dormiva ancora i genitori si presentano in camera sua i genitori di Britney si presentano in camera sua e la sgridano e dicono che cosa hai combinato ma non ti vergogni ma non ci pensi e lei dice vabbè il matrimonio si può annullare era solo per puro divertimento ha detto no ti devi vergognare insomma lei racconta che le hanno fatto una strillata come se avesse ucciso qualcuno la verità perché comunque con il matrimonio magari lui poteva avere dei diritti sui suoi soldi e infatti lei dice proprio questo la mia famiglia non mi scriveva non mi chiamava se non per chiedermi soldi lì chiamavo io e mi dicevano e dopo due minuti riattaccavano che erano impegnati Jamie Lynn era il centro della vita di mia madre io c'ero solo per i soldi però poi quando facevo qualcosa di male venivano subito infatti lei racconta che poi riflettendoci si era resa conto che i genitori intervenivano ogni volta che lei stabiliva un vincolo affettivo con qualcuno e non perché fossero preoccupati per lei per magari le sue cattive scelte ma perché avevano paura di condividere il patrimonio di Britney con questa persona quindi lei veniva sempre allontanata sia da potenziali partner sia anche da amici perché comunque lei nonostante si fosse resa conto che i genitori non erano dei genitori modello cercava in tutti i modi la loro approfazione quindi alla fine lei faceva sempre quello che volevano i genitori e piano piano lei si è ritrovata da sola perché la sua famiglia era palese che la volesse solo per i soldi e non c'era come supporto emotivo la stampa la attaccava per ogni cosa non aveva amici sostanzialmente mi ha fatto molta tenerezza perché era una ragazza persa era persa era da sole ed è anche per quello che poi questo l'abbiamo detto anche nel video su Britney che si attaccava che si attaccava a qualunque persona la trattasse bene infatti Federline così come gli altri erano persone che sostanzialmente magari dal primo incontro le avevano chiesto come va come stai tutto bene e per lei era amore a prima vista perché era proprio una ragazza che aveva bisogno di attenzione aveva bisogno di una famiglia di una guida e infatti anche per questo che molte persone si sono approfittate di Britney della sua vulnerabilità della sua fragilità e della sua anche ingenuità come lei stesso dice lo stesso Federline infatti racconta tutto il matrimonio con Kevin Federline la persona con cui ha avuto due figli i suoi unici due figli che sostanzialmente era tutto carino fino a che non si sono sposati quando si sono sposati lui ha semplicemente per dirla breve ma nel libro raccontata nei dettagli ha semplicemente sfruttato la fama di Britney per diventare famoso perché lui voleva fare il rapper infatti l'avevano messo sotto la stessa casa discografica di Britney Spears e nel momento in cui hanno avuto i due figli lui non c'era mai era sempre a registrare qualche canzone era sempre in tour e quando tornava a casa l'unica cosa che faceva era fumare l'erbetta Maria e poi andare a dormire infatti lei sostanzialmente dice che ha cresciuto i figli da sola nei primi anni della loro vita e nonostante questo i paparazzi non le avevano perdonato il fatto cioè la stampa l'opinione pubblica non le aveva perdonato il fatto che lei fosse diventata madre che quindi non era più la regginetta del pop ma era una madre quindi una persona quasi come se fosse una persona normale si era tolta quell'alone di adorazione di adulazione perché sostanzialmente era una persona normale come tante altre e quindi la seguivano ovunque e riprendevano qualunque cosa lei facesse di sbagliato come ad esempio il famoso video in cui lei aveva il bambino in braccio circondata dai paparazzi lei a un certo punto inciampa come può succedere a chiunque non è successo niente quel video e quelle foto hanno fatto il giro dei giornali scrivendo Britney Spears se fosse una madre terribile oppure il fatto che appunto lei non ce la facesse più con tutti questi paparazzi piangeva con il figlio in braccio ed erano uscite le notizie del fatto che Britney Spears era saurita che non era in grado di fare la madre insomma lei è stata appunto attaccata sempre da tutti e non è riuscita a reggere questa cosa e questo libro mi ha messo un'ansia incredibile perché pensate per quanto riguarda la vicenda di Federline che Kevin Federline appunto stava cercando di sfondare nel mondo del rap o dell'hip hop qualcosa del genere e che succede che siccome Kevin Federline aveva sfruttato abbastanza le immagini di Britney per diventare famoso perché appunto lo chiamavano alle interviste in televisione eccetera eccetera ha deciso di mollare Britney anche perché non era mai a casa cioè Britney addirittura prendeva l'aereo per andarlo a trovare negli studi di registrazione e lui la cacciava anche a malo modo quindi lui la voleva lasciare il problema è stato che perché lui aveva già lasciato una donna con due figli per Britney quindi se avesse divorziato da Britney lasciandola con due figli questa serie di notizie lo avrebbero compromesso avrebbero compromesso la sua carriera la gente di Kevin andò da Britney e le disse guarda Britney devi divorziare tu cioè Kevin Federline ti vuole lasciare però lui non può divorziare da te perché altrimenti la sua carriera è rovinata e la casa discografica ha buttato i soldi quindi lo devi mollare tu in modo che lui passa anche un po' per la vittima della questione e la sua carriera può andare avanti cioè pensate io quando ho letto quella cosa sono rimasto senza parole ve lo dico ho detto ma io cioè ma uno è manco libero di fare quello che vuole nel divorziare o no e Britney racconta che non voleva farlo però comunque Kevin Federline voleva lasciarla quindi alla fine si è fatta convincere ha firmato lei il divorzio e la notizia le è andata contro perché non se la sono presi con Federline se la sono presi con lei ovviamente dicendo che era appunto una madre sconsiderata che era una cattiva madre che toglieva il padre ai suoi figli insomma tutto quello che faceva per il pubblico e per la stampa non andava bene quindi di nuovo si era ritrovata da sola la sua famiglia continuava a chiamarla solo per i soldi a non darle nessun supporto emotivo Kevin Federline non c'era più l'unica cosa che le era rimasta erano i figli però poi Kevin voleva prendersi i figli prevalentemente per farsi dare più mantenimento da Britney era stata diciamo secondo Britney è stato questo il motivo per cui lui le ha voluto togliere subito i figli e arriviamo al 2007 arriviamo al 2007 e Britney ci conferma quello che avevamo detto sul magico episodio del fatto che si sia tagliata i capelli a zero che cosa è successo nel 2007 l'abbiamo visto appunto nell'altro video ci sono state una serie di episodi che poi hanno dato vita alla conservatorship durata 13 anni da dove parte tutto lei parte dal fatto che appunto essendo sola senza famiglia senza fidanzato i figli andavano ogni tanto anche dal padre quindi lei si è ritrovata senza supporto emotivo conosce Paris Hilton che la descrive come una ragazza che l'ha aiutata molto nei momenti di difficoltà era l'unica persona che si è posta con lei come una vera amica quindi andavano a fare queste serate la famosa foto di Britney Lindsay Loan e Paris Hilton nella macchina un po' finite lei racconta che in queste serate sicuramente beveva però non era un'alcolizzata uscivamo come delle ragazze normali comunque lei aveva 24 anni uscivamo come delle ragazze normali io nella mia vita sono stata dipendente solo dall'adderal ha detto nel libro che l'adderal è un farmaco che si dà a chi soffre di iperattività o deficit dell'attenzione e la faceva praticamente lo usava come antidepressivo diceva che quando si prendeva questo adderal stava meglio stava più tranquilla che succede però a un certo punto che lei appunto instaura questa amicizia con Paris Hilton quando escono le foto di loro appunto nelle serate eccetera eccetera i genitori che come sempre sempre i momenti negativi si ricordano di tornare vanno da Britney e le dicono Britney stai facendo un casino che cosa stai facendo sei una drogata sei una tossica vergognati e non ti facciamo più vedere le tue amiche Britney accetta questa condizione quindi si ritrova di nuovo per l'ennesima volta da sole poi chiaramente i genitori hanno ripreso l'aereo se ne sono riandati di Louisiana si sono fatti i cavoli loro e non l'hanno più chiamata quindi loro tutto quello che loro facevano non era per il bene della figlia ma era semplicemente per non rovinarle la reputazione e poter continuare a guadagnare le sue spalle questo penso che si sia capito fino ad ora quindi si è ritrovata di nuovo da sola e a un certo punto anche con tutta la vicenda della custodia dei figli eccetera Britney si rompe le scatole e arriviamo all'episodio del 2007 noi avevamo già fatto una teoria sul perché si fosse rasata i capelli e Britney ce la conferma nel libro e volevo leggervi solo questo pezzettino perché come lo descrive lei non sono in grado di descriverlo io così capiamo perché nel 2007 si è rasata i capelli a febbraio dopo settimane lontana dai miei figli ero fuori di me dal dolore andai a supplicare Kevin perché me li facesse vedere non mi lasciò nemmeno entrare lo implorai Jaden James aveva 5 anni e Sean Preston 17 immaginai che non sapessero dove era la mamma che si chiedessero perché non voleva stare con loro sarei stata disposta a sfondare una porta con una riete per vederli non sapevo che cosa fare a quello spettacolo a cui ci siamo assistettero anche i paparazzi non riesco a descrivere l'umiliazione che provai mi sentivo violata ero indifesa abbraccata come sempre da quegli uomini che non aspettavano altro che io facessi qualcosa che valesse la pena fotografare così quella sera decisi di accontentarli entrai da una parrucchiera presi un rasoio e mi tagliai i capelli a zero lo trovarono tutti esilarante questa è davvero fuori di testa i miei genitori accolsero la notizia con imbarazzo ma nessuno sembrava capire che ero andata fuori di testa dal dolore mi avevano portato via i miei figli con la testa rasata tutti avevano paura di me anche mia madre nessuno mi parlava più ero troppo brutta i capelli lunghi erano una delle parti di me che piacevano di più lo sapevo bene molti uomini li ritenevano sexy rasarmi era un modo per dire al mondo andate tutti a fanculo volete che sia bella per voi col cazzo volete che mi comporti bene per voi col cazzo volete che sia la ragazza dei vostri sogni col cazzo per anni mi ero trattenuta avevo sorriso educatamente mentre i presentatori televisivi mi guardavano il seno mentre i genitori americani mi accusavano di traviare i loro figli perché avevo la pancia scoperta mentre i dirigenti mi trattavano con condiscendenza dandomi contentini e sindacavano sulle mie scelte anche se avevo venduto milioni di dischi mentre la mia famiglia si comportava come se fossi stata una criminale ora non ne potevo più quindi ha confermato quello che avevamo detto nel video cioè il fatto che lei a un certo punto si è rotta le scatole ha detto sai pete che c'è campate tutti sulla mia immagine ecco qua che faccio vendetemi così brava brava Brittany infatti lo avevamo detto questa poverina purtroppo poi succede quello che abbiamo di cui abbiamo già parlato nel precedente video quindi non starò qui a rispiegare tutta la vicenda della conservatorship e non sulla parte della conservatorship non c'è niente di nuovo di quello che non sia già uscito immagino perché comunque Brittany è ancora in causa con la tristar con l'agenzia di Lou Taylor che ha spinto il padre a metterla sotto conservatorship ha raccontato comunque il fatto appunto che lei non potesse fare nulla che ha continuato a lavorare ma che non le davano i soldi che non le facevano vedere i figli che la ricattavano e lei è stata sostanzialmente 13 anni in prigionia se non conoscete bene la vicenda ricercatevi il video sul canale perché appunto lì la spieghiamo per bene però c'è una cosa che mi ha colpito che non sappia che non sapevamo come ha conosciuto Brittany il movimento free Brittany è stato quasi quasi come un segno del destino se uno la volesse prendere in questo senso che cosa succede che a un certo punto Brittany secondo il padre era diventata dipendente dagli integratori quegli integratori voglio dire non sono medicinale insomma comunque il padre va a casa sua e le dice tu sei diventata dipendente dagli integratori sono preoccupato quindi ti facciamo fare un test psicologico per capire come stai messa e lei quindi chiaramente essendo sotto conservatorship non poteva dire di no ha fatto questo test psicologico ed è casualmente uscito che lei non era idonea psicologicamente e viene rinchiusa in una clinica la coincidenza è stata che lei viene rinchiusa in una clinica quando si è rifiutata di fare il secondo tour a Las Vegas perché il padre le aveva insomma la Tristar Lou Taylor le avevano fatto fare per un anno dei concerti pesantissimi a Las Vegas delle serate e lei aveva detto per favore fatemi riposare non ne posso più hanno detto assolutamente no e le avevano già prenotato il secondo tour quindi lei va in televisione si rifiuta di fare il concerto e casualmente viene trovata dipendente dagli integratori e viene rinchiusa in una clinica viene rinchiusa in questa clinica per pensate tre mesi in cui veniva controllata mentre faceva la doccia mentre era a letto mentre mangiava mentre faceva qualunque cosa e poteva guardare la televisione solo dalle otto alle nove di sera ed era completamente isolata dopo tre mesi di ricovero l'hanno spostata nel reparto insieme agli altri quindi era lì nel salottino insomma con tutte le altre persone che avevano bisogno di cure e c'era un'infermiera che se l'era presa particolarmente a cuore e le disse vieni Britney ti faccio vedere un po' di tv di nascosto ha acceso la tv e stava passando un servizio sul movimento free Britney quindi lei a quel punto vedendo i fan che erano lì che dicevano di liberarla che c'era qualcosa di strano in tutto quello che stava succedendo attorno a Britney eccetera si è resa conto che c'era qualcuno al mondo a cui importava di lei perché palesemente ovviamente lo sappiamo ma lo sapeva anche lei la sua famiglia la sfruttava solo per i soldi tutti gli amori che si era fatta erano state persone tossiche persone poco raccomandabili eccetera eccetera le sue amicizie le aveva perse sempre perché i genitori gliel'avevano vietato era sotto in conservatorship da sola quindi lei era convinta che a nessuno importasse di lei e quando ha visto i suoi fan in televisione combattere per lei ha capito che c'era qualcuno al mondo che l'amava a cui interessavano le sue sorti e quindi da lì si è fatta coraggio una volta che è uscita fuori dalla clinica poi c'è stata la quarantena quindi è rimasta a casa dopo la quarantena nel 2020 ha chiamato il 911 ha detto mio padre sta abusando della tutela quindi io voglio andare a processo voglio dire davanti a tutti voglio denunciare questa cosa e dire che in realtà io non ho bisogno di conservatorship né di nessuna tutela sono una donna che è stata sostanzialmente schiavizzata dal padre che ha abusato proprio della tutela e quindi poi da lì insomma dopo questa denuncia vado avanti al giudice eccetera e poi finalmente nel 2021 viene liberata e grazie alla sua liberazione c'è questo libro dunque queste sono le cose principali che diciamo che vi ho riportato perché mi hanno colpito ed erano magari cose che non sapevamo però chiaramente nel libro c'è anche dell'altro che non ve l'ho voluto raccontare tutto perché magari ve lo volete leggere quindi queste diciamo sono per me i punti principali che hanno un po' chiuso il cerchio dell'altro video che avevamo fatto perché c'erano appunto dei punti un po' diciamo un po' sfocati del racconto e qui si ricollega tutto la famiglia disfunzionale la sua ribellione con il fatto di essersi rasata la testa che però l'ha portata poi alla sua prigionia bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi scuso ancora per il ritardo purtroppo è coinciso e sono tornata in Italia a salutare la mia famiglia non come la nonna di Britney non facciamo battute sono riuscita a non impazzire ballando coi coltelli per il sonno quindi noi ci vediamo dopo domani per un altro video perciò ciao